Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli allevatori che mi hanno dato fiducia. Gli obiettivi sono tanti, sicuramente il principale obiettivo è quello di cambiare un po' la mentalità del nostro comparto. E quindi mi piacerebbe non parlare più di allevatori, semplici allevatori, ma di imprenditori zootecnici. Lavoreremo su più fronti per dare nuovi servizi e dar possibilità agli nostri imprenditori zootecnici di potenziare i propri allevamenti, possibilmente attrarre anche quelle soddisfazioni professionali ed economiche che un po' tutti ci aspettiamo. Non ci dimentichiamo che ormai sono anni che coltiviamo senza trarre benefici, perché i nostri raccolti puntualmente vengono distrutti dalla fauna selvatica e poi siamo costretti a subire delle prese in giro con dei rimborsi veramente irrisori, con il regime de minimis. Questo non è più possibile, perché abbiamo voglia di rilanciare questo comparto, ma per rilanciare questo comparto c'è bisogno assolutamente che ci venga dato una mano consistente anche dalla regione e confidiamo appunto che il nuovo assessore all'agricoltura sia attento a queste esigenze di noi allevatori, imprenditori zootecnici. Appuntamento importante del 30 maggio all'Aquila, ci sarà un seminario molto importante dove appunto parleremo di come abbiamo intenzione di cambiare gli allevamenti in Abruzzo.